Barzellette, battute, freddure, giorno 19 dicembre C'è un tizio che va in farmacia e arriva davanti al bancone e dice Mi fa male il pisello Mormorio tra la gente Il farmacista si avvicina e gli dice Guardi, per stavolta va bene così E gli da una pomata E gli dice, la prossima volta che viene Mi raccomando, a posto di dire pisello Mi dica il braccio E allora fa, va bene Fa, va bene, grazie, arrivederci Qualche giorno dopo si ripresenta e il farmacista fa Allora, come va il braccio? E quello risponde No, il braccio va bene Ogni tanto mi fa solo un po' male a pisciare Daniele! Veramente pessima Ma! 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 Ma!